Oggi inauguriamo una nuova sezione di questo canale che si chiama In 4 minuti e quindi tutto quello che viene detto, spiegato, insegnato deve essere fatto e finito in 4 minuti una specie di ricetta veloce la prima di queste ricette, chiamiamole così, riguarda i giri di accordi oggi parliamo di 4 giri di accordi che magari conoscete o magari no chi li conosce già potrà ripassarli e chi non li conosce potrà invece utilizzarli per cercare di scrivere nuove canzoni magari con atmosfere diverse da quelle che ha sempre usato queste 4 progressioni, questi 4 giri di accordi non sono tipiche di nessun genere le potete usare per qualsiasi genere musicale voi intendiate scrivere e quindi partiamo subito con la prima progressione di accordi che è questa Gli accordi sono Fa maggior 7, Sol sesta, Do maggior 7, Fa maggior 7 e poi Re minore 9 e la progressione rimane uguale una possibile melodia per questa prima progressione potrebbe essere la seconda progressione che andiamo a vedere e le prime 3 le suono tutte con lo stesso ritmo, tutte con lo stesso BPM è circa, è questa e quindi La minore, Do maggior 7, Mi minore 7 e Fa maggior 7 una possibile melodia che potrebbe essere costruita su questi 4 accordi è la seguente e via andare la terza progressione che andiamo a vedere è questa e quindi Sol Mi minore 9, Re, Do a 9 e quindi Sol Mi minore 9, Re, Do a 9 ma se ne possono trovare mille altre, più di mille l'ultimo esempio di progressione in 4 minuti è arpeggiata ed è questa Gli accordi di questa ultima progressione sono Mi minore 9, Si minore 6, Do quinta bemolle 9, Ad e Re quarta una possibile melodia potrebbe essere Questa è questa intendo così, andando poi avanti con una specie di tormentone. Io come sempre mi auguro che questi mini video vi siano utili per scrivere delle belle canzoni e quindi se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale qui sotto, lasciate un like, condividete i video e su queste parole vi saluto come sempre dicendovi fate buona musica perché la buona musica resta.